Massiccia la risposta dello Stato in provincia di Foggia dopo l'attentato dello scorso 9 agosto a San Marco in Lamis, in cui un commando criminale uccise ben quattro persone, tra cui due agricoltori estranei alla faida tra clan mafiosi del Gargano. Circa 200 uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanze impegnati nel territorio e che in soli cinque giorni hanno controllato 1425 persone, di cui 361 pregiudicati, oltre a 620 veicoli, con la perquisizione di 32 persone, due arresti e sei denunce. Il dispiegamento di forze dell'ordine è stato stabilito, lo ricordiamo, nel tavolo tecnico convocato il 10 agosto a Foggia, il giorno dopo la mattanza nelle campagne di San Marco in Lamis, alla presenza del ministro dell'interno Marco Minniti. In totale sono operative 17 pattuglie del reparto prevenzione crimine per un totale di 55 agenti di polizia, 20 pattuglie e 20 cacciatori dei carabinieri per un totale di 40 militari, 7 pattuglie dei baschi verdi della Guardia di Finanza per un totale di 20 unità. Nell'agguato sono stati uccisi il presunto boss Mario Luciano Romito di 50 anni, il cognato che gli faceva da autista Matteo De Palma di 44 e due contadini fratelli Luigi e Aurelio Luciani di 47 e 43 anni, assassinati o perché testimoni dell'agguato o perché scambiati per guardaspalle del boss Romito.